Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense, il lavoro in primo piano con lo sciopero dei sindacati, sciopero appunto nell'ambito delle farmacie comunali, poi naturalmente torneremo a parlare anche del petrolchimico, domani ci sarà un importante appuntamento al Ministero e poi il Covid, oggi nessun decesso ma insomma ancora elevato il numero dei positivi nel ferrarese, parleremo di eventi, di appuntamenti, di sport col basket in gara 2 dove Ferrara ha battuto Piacenza sul finale, però apriamo con appunto il presidio dei laboratori delle farmacie comunali sindacati questa mattina a Ferrara per il mancato rinnovo del contratto, vediamo. Mercoledì 11 maggio si è tenuto un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori delle farmacie comunali AFM Soeglia di Ferrara e Argenta in piazza municipale per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale farmacie comunali Assofarm, scaduto da 7 anni. Protestiamo perché sono 7 anni che il nostro contratto è scaduto e non si vede all'orizzonte nessuna possibilità, nessuna proposta per venire riconosciuto questo ritardo a fronte anche di un impegno particolare come tutti sapete di questi ultimi due anni che ci ha visti in prima linea sostenere senza defezioni alcuna la sanità pubblica locale in questi anni in cui tanti presidi sanitari venivano chiusi le farmacie rimanevano sempre aperte. È giusto e normale e dignitoso che tutti i lavori, in particolare per i motivi che diceva Stefano, abbiano il degno rinnovo del contratto nazionale. Oggi la trattativa c'è ma non è su basi sufficienti per poter chiudere un contratto nazionale. Dopo l'incontro in comune i sindacati hanno tracciato un bilancio del confronto. Abbiamo fatto una richiesta di incontro di essere accolti dal sindaco e dal presidente della holding c'era stato risposto che saremmo stati accolti e sarebbe dovuto esserci anche il sindaco. In realtà ci ha accolto il presidente Cimarelli dove abbiamo avuto un incontro tra l'altro molto sereno e di condivisione su quelle che sono le prospettive e le necessità di prospettiva dal punto di vista dell'occupazione e del riconoscimento delle professionalità. Io penso che i problemi per superarli bisogna affrontarli, non bisogna evitarli. Detto questo, adesso ringraziamo, siamo fiduciosi, vediamo. Attualmente ad oggi, nel senso ancora non ci sono condizioni di poter sottoscrivere nulla sia a livello nazionale sia a livello territoriale, siamo bloccati, quindi vediamo se si sblocca qualcosa a giugno. Quello che abbiamo accolto è una disponibilità da parte dell'AFM di intervenire, di portare quelle che sono state le idee e quelle che noi diciamo, soprattutto per quanto riguarda le professionalità dei farmacisti, a livello più alto, più elevato che è quello dell'associazione dell'Assofarm. Noi su questo siamo soddisfatti. E domani a Roma si terrà il tavolo al Ministero per capire il futuro di Versalis e Basel al petrochimico di Ferrara dopo la decisione da parte di Eni di chiudere il cracking di Marghera. Lunedì mattina Cigelle e Will avevano ottenuto uno sciopero davanti alla portineria del petrochimico. Siamo estremamente preoccupati sulle sorti del polo chimico di Ferrara in modo particolare a seguito della decisione di Eni Versalis e di chiudere il cracking a Porto Marghera. Crediamo che questa sia una scelta che non dia garanzie di continuità al polo chimico, in modo particolare Eni si era impegnata a fare degli investimenti per il rafforzamento dell'hub logistico di Porto Marghera in presenza di chiusura del cracking, cosa che non ha fatto. L'altro elemento che voglio sottolineare è sicuramente la necessità che politica, amministrazioni, istituzioni e a tutti i livelli si muovino per provare a dare un percorso a questa vertenza. Ricordo tutti che c'è un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico che è un tavolo tecnico ma che probabilmente avrebbe bisogno di una declinazione politica perché che cosa succede dalla chimica di base in questo Paese deve trovare in qualche modo un confronto e una scelta strategica da parte del Governo. Dall'altra parte abbiamo aperto un confronto con la Regione Emilia-Romagna che si è resa subito disponibile, che ha già mandato la richiesta di convocazione ad Eni Versalis in modo particolare con le organizzazioni sindacali che dovrebbe esserci l'incontro il 18, per tentare di capire come dare continuità all'attività produttiva e occupazionale di questa struttura. Noi in Iara siamo preoccupati perché comunque come impianto unico e ultimo rimasto in Italia per la produzione di fertilizzanti, di urea in particolar modo, domani con quello che è la ricaduta diciamo di tenuta all'interno del petrolchimico per quanto riguarda i costi di mantenimento di un sito all'interno del petrolchimico senza appunto un eventuale sostegno da anche Basel o Eni con i propri impianti, può essere un problema, può essere un problema grosso anche. In una situazione del genere, un impianto come quello di Ferrara di Iara, la preoccupazione appunto è quella che possa un domani non investire più per il futuro. Cambiamo argomento, il Covid sono oltre 300 i nuovi positivi al SARS-CoV-2 nel ferrarese registrati nelle ultime 24 ore, un netto aumento rispetto a 24 ore fa, però non si registrano decessi. Sono 319 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, ma non si registrano decessi. Questo il bollettino Covid nel ferrarese a fronte di 3892 nuovi casi in Emilia-Romagna su 19.943 tamponi eseguiti e 11 decessi. La percentuale dei nuovi positivi è del 19,5% con un'età media di 45 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 33, meno 5 rispetto al giorno precedente, mentre per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.217. I casi attivi, cioè malati effettivi, sono 41.618. Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cura ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 40.368, il 97% del totale dei casi attivi. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 4.970. Infine, in Emilia-Romagna sono 3.790.240 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, pari alla 94,3%. Le dose aggiuntive fatte sono 2.882.280. Parliamo ora dell'accoglienza degli studenti ucraini a Ferrara. FISM è l'associazione che coordina oltre 50 scuole dell'infanzia paritaria di ispirazione cristiana tra comune e provincia. Le scuole hanno accolto in questi due mesi diversi bambini arrivati appunto dall'Ucraina. Il tema sarà approfondito in una delle prossime puntate di A Tu per Tu, però intanto sentiamo alcune anticipazioni del presidente, della FISM Ferrara Biagio Missanelli, e dalla coordinatrice pedagogica Celeste Schincaglia. Presidente, parliamo di un tema molto contemporaneo, l'accoglienza dei bambini ucraini arrivati e che ancora arrivano appunto nella nostra città, un tema delicato è quello delle scuole, delle scuole paritarie, un tema che verrà affrontato tra qualche giorno nell'appuntamento di A Tu per Tu. Come sta procedendo? Come avviene tutto questo? Soprattutto quali sono le caratteristiche delle scuole paritarie? Allora, noi siamo presenti sul territorio ferrarese con 54 scuole. Queste scuole hanno l'ispirazione cristiana, molte sono all'interno di parrocchie, alcune sono gestite da cooperative sociali, alcune anche da associazioni di genitori o altro tipo di associazioni. E ci siamo posti subito a questo problema, insomma dell'accoglienza anche dei bambini piccolini all'interno delle nostre scuole. Bambini che sono arrivati in questi ultimi due mesi, quindi insieme poi dopo con il servizio sanitario, o con il comune di Ferrara, abbiamo aperto le nostre scuole a questa richiesta, a questa esigenza. Spieghiamo che cos'è la FISMA. La FISMA è una federazione italiana, scuole materne, è presente su tutto il territorio nazionale. Queste scuole svolgono ancora, nella nostra modernità, il ruolo educativo fondamentale che gli adulti in qualche modo devono trasmettere ai bambini. Lo fanno con delle loro caratteristiche specifiche che poi racconteremo nel prossimo incontro. Parliamo dell'approccio con cui sono stati accolti questi bambini. Ricordiamo ancora bambini di età fino a sei anni provenienti dall'Ucraina. Quali sono le modalità con cui li avete accolti, le modalità di approccio e quindi di inserimento in questa scuola? Allora, intanto mi faceva piacere ricordare che noi come scuole FISMA abbiamo accolto in maniera gratuita questi bambini che hanno bisogno di ritornare ad una normalità che purtroppo hanno perso e quindi abbiamo cercato di accoglierli in maniera tranquilla e senza troppi festoni e clamori proprio per cercare di dargli tutta la serenità possibile per affrontare una situazione che è comunque nuova e che non hanno mai affrontato. Ecco, quindi nel dettaglio come stanno procedendo questi due mesi, ormai anche più di due mesi e come pensavate di procedere con i confronti di questi bambini? Allora, stanno procedendo molto bene perché i bambini si sono integrati veramente molto bene anche i loro coetane italiani sono stati veramente molto disponibili all'accoglienza per i bambini tra l'altro è molto facile e allora come stiamo pensando di procedere? È difficile da dire perché ancora la situazione è in continua evoluzione non sappiamo come andrà, ovvio, naturalmente noi come scuole siamo comunque disponibili all'accoglienza di questi bambini anche in un futuro. Cambiamo argomento dal Cibus di Parma, Rimini per l'ortofrutta col diretti in campo per un rilancio a 360 gradi del cibo e dell'ortofrutta del Made in Italy, questo è il tema al centro della nuova puntata di Campagna Amica dove si parlerà anche della nuova sede legale di Col diretti aperta in pieno centro a Ferrara. Novità per quanto riguarda Col diretti Ferrara il centro della città per ribadire ancora una volta che la vostra organizzazione è una forza sociale. Sì esatto, proprio così. Novità in Col diretti Ferrara, siamo molto contenti, siamo molto orgogliosi siamo in progress, diciamo, quindi ancora non è che possiamo individuare quello che sarà la giornata in cui inauguriamo la nuova sede legale di Col diretti Ferrara e Impresa Verde Ferrara che come è stato detto e come abbiamo la volontà e hanno la volontà i nostri dirigenti di essere veramente nel cuore della città, del paese, per essere a servizio del paese e del territorio andando tutte le mattine e tutti i giorni a dialogare con quelli che sono i nostri primi alleati che sono i cittadini e i consumatori perché loro, molto sensibili al cibo, molto sensibili al territorio molto sensibili all'ambiente, molto sensibili alla socialità. Ricordo che Col diretti si è battuta per sbloccare i 200 milioni di euro a disposizione degli indigenti. Col diretti Ferrara, conformemente alle decisioni del proprio consiglio direttivo proprio in questi giorni è trasferito la propria sede legale in centro Ferrara. È una novità, siamo proprio a due passi dal paese Tento Trieste i cittadini possono essere tra l'altro più agevolati anche nel raggiungere i nostri servizi perché una parte della parte appunto funzionale è già operativa troveranno quindi sicuramente direzione, presidenza, quella che è la dirigenza che riunirà qui in ogni occasione le proprie attività poi troveranno anche i servizi di prossimità in qualche modo quindi da campagna mica rispetto alle attività con i cittadini poi le parti fiscali, le parti del CA, quindi il servizio proprio tecnico e per non dimenticare il patronato dei servizi quindi quello che è proprio il rapporto anche con i cittadini. Oggi la possibilità per tutti i ferraresi è di trovare Col diretti proprio in centro in via Contraria 5. Due weekend all'insegna del Fragole a Lago Santo la 27esima edizione partirà venerdì 13 maggio mostre, eventi culturali, musica e soprattutto piatti a base di uno dei frutti tra i più apprezzati da grandi e piccini. Lago Santo per due weekend diventa la capitale della fragola simbolo della cittadina dove si coltivano le piantine del profumato frutto il 90% del manifatturiero italiano. A Lago Santo viene proprio coltivata la pianta, la piantina dove poi viene data ormai in tutto il mondo. Riproponiamo come abbiamo fatto anche gli altri anni in collaborazione con la Salve Vivai e con il CIV di Lago Santo un laboratorio didattico, la sagra quindi parte venerdì con una bellissima cena a tema che abbiamo cercato di recuperare tutte quelle persone che magari non si ritrovano per tanto tempo l'abbiamo chiamata appunto la cena delle classi poi niente, appuntamenti quindi espositori naturalmente con prodotti tipici, hobbystica in quantità abbiamo un piccolo palco, faremo degli spettacoli spettacolo più importante ci tengo insomma a sottolinearlo è quello di sabato 21 con Enrico Portera il mitico chitarrista di Lucio Dalla per intenderci quindi assolato con tutti e suonato anche con Vasco Rossi naturalmente c'è uno stand gastronomico bellissimo e sfrutteremo diciamo così il nostro stand per creare una mostra delle mostre quindi noi abbiamo recuperato delle scenografie del pittore Franco del Greco che è un nostro concittadino con i nostri volontari quindi un ringraziamento particolare dobbiamo fare ai nostri volontari di tutte le nostre associazioni della consulta e del volontariato perché sono quelle che mandano avanti tutto mandano avanti la cucina, mandano avanti la sala e quindi un grande lavoro da parte di tutti di tutta la consulta e anche devo dire un grande lavoro anche da parte del gruppo commercianti che ci hanno dato una mano sia fisicamente che anche con risorse economiche e un ringraziamento particolare naturalmente all'amministrazione comunale che ha voluto tantissimo questa sagra L'appuntamento è dal 13 al 15 maggio e dal 20 al 22 maggio e si terrà nel centro e nelle vie di uno dei comuni più antichi e caratteristici del Ferrarese Venire a Rago Santo intanto per le fragole che abbiamo delle fragole bellissime anche solo da comprare e poi visitare il nostro stand perché quest'anno abbiamo fatto un menù dedicato alla fragola e anche dedicato alla tradizione e alla gotta naturalmente dove presentiamo dei piatti particolari siccome il nostro simbolo è la capa santa di Lago Santo abbiamo diciamo fatto le capa sante in salsa di fragole e vi devo dire che è un piatto strepitoso Torniamo a Ferrara e parliamo di teatro il prossimo 20 maggio andrà in scena al Teatro Comunale Abbado l'opera ispirata a Carlo Goldoni La Cecchina il dramma sarà al centro della nuova puntata di Prima della Prima in TV registrata questa mattina al ridotto del Teatro Comunale abbiamo intervistato i protagonisti Oggi avete parlato della Cecchina raccontiamo al pubblico di cosa tratta questa opera Sì, la Cecchina è un'opera buffa sul libretto di Goldoni e musica di Niccolò Piccinni e racconta di una storia sostanzialmente di intrigo e amorosa è tratta da un romanzo di Richardson l'opera del 1760 il romanzo di Richardson che fu un grandissimo successo viene pubblicato nel 1740 e si intitola Pamela e oggi con i ragazzi abbiamo appunto raccontato un po' soprattutto delle fonti letterarie a cui si ispira Goldoni del personaggio di Goldoni I ragazzi stessi raccontano all'interno della puntata che moltissimi di loro non hanno avuto nessun rapporto nella loro vita con il teatro con il melodramma o con altre forme musicali rappresentate nei nostri teatri di tradizione che poi è il motivo per cui si parlava italiano e si continua ancora a parlare italiano in tutto il mondo per esempio è il melodrama questi ragazzi non hanno un contatto con questo mondo e quindi queste esperienze coinvolgerli in una trasmissione televisiva li fa entrare con quello di più bello che ha prodotto l'Italia i suoi teatri, il suo patrimonio musicale Come è stato preparare questo appuntamento e quindi formarvi da questo punto di vista? Allora è stato molto interessante perché come persona non ho mai partecipato attivamente a una preparazione di un'opera mi è piaciuto molto ho scoperto un mondo che non conoscevo e lo rifarei in futuro se ci ricapitasse l'occasione Senti, dal punto di vista personale la cecchina ti ha coinvolto che cosa ti è piaciuto di questa opera? Allora inizialmente devo dire che di primo impatto non mi ha impressionato più di tanto quando però la professoressa Greppi ci ha consegnato il materiale e abbiamo iniziato appunto a lavorarci su mi ha appassionato e devo dire che mi sono ricreduto Allora anche nel tuo caso immagino sei stato coinvolgimento da questo punto di vista tu frequenti il teatro oppure questo sarà un modo per avvicinarti al teatro? Io personalmente non frequento molto il teatro ma questa è stata un'opera che mi è piaciuta e mi ha incuriosito quindi penso che in futuro mi avvicinerò al mondo del teatro un po' di più Ecco anche dal tuo punto di vista invece com'è stato essere coinvolto in questo appuntamento e quindi anche raccontare e descrivere questa opera? Quindi allora sicuramente la preparazione che c'è stata in classe con le professoresse rappresentanti del teatro è stata molto interessante appunto perché si trattava di una situazione nuova che non avevo mai sperimentato ma che comunque mi ha coinvolto mi sono sentito coinvolto E l'Orchestra Sinfonica d'Este debutta al De Micheli di Copparo 5 appuntamenti a partire dal 28 maggio Con una rassegna sinfonico-cameristica in 5 appuntamenti l'Orchestra Sinfonica d'Este debutta al Teatro De Micheli di Copparo dove ha mosso i primi passi e dove ha trovato la propria casa L'esordio avverrà sabato 28 maggio e la presentazione è avvenuta alla presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni orgoglioso nel sostenere un'impresa importante come la nascita di un'orchestra ed è l'assessore alla cultura Paola Peruffo che auspica in una importante partecipazione della cittadinanza A spiegare i dettagli del programma il presidente dell'orchestra Nadir Garofalo È una rassegna sinfonico-cameristica quella che avrà luogo qui a Copparo al Teatro De Micheli ora lo dico con gioia anche casa nostra dal 28 maggio prossimo fino alla fine del 2022 apriamo con un concerto sinfonico dove presenteremo la nostra orchestra il titolo del primo concerto Classic Revolution in qualche modo potrebbe anche dare il titolo all'intera rassegna è una rivoluzione siamo contenti come dire di accendere questa miccia insieme alla visione alla lungimiranza dell'amministrazione del comune di Copparo e confidiamo che questa miccia venga alimentata ancora di più dal pubblico e dalla cittadinanza tutta Dicevo sono cinque appuntamenti il primo sinfonico gli altri da settembre a dicembre cameristici musica di alto livello rivoluzione classica e ora il basket perché Ferrara batte in gara 2 il Piacenza proprio sul finale dopo lo scivolone di gara 1 contro la Sigeco la top secret nella seconda partita dei quarti di finale playoff non si fa trovare impreparata e strappa a Piacenza una preziosa vittoria in trasferta dopo aver inseguito per quasi tutta la gara ma senza subire parziali pesanti il massimo svantaggio meno 12 è arrivato sul 43 a 31 nel terzo quarto Ferrara ha trovato la forza per colmare il gap che la divideva dai padroni di casa trovando maggiore fluidità in attacco lo strappo è arrivato poi grazie alle triple di Alessandro Panni e De Mario Mayfield che hanno trovato prima la parità e poi sorpassato Piacenza nell'ultima frazione il capolavoro difensivo in dieci minuti appena nove i punti messi a segno da Piacenza convencato capace di limitare nel migliore dei modi l'americano Di Vo nei momenti decisivi della gara nel finale brava la top secret a mantenere i nervi saldi e segnare dalla lunetta i punti decisivi ora la serie è tornata in parità una vittoria per Piacenza e una per Ferrara la sfida dei quarti si sposterà in città dove si giocheranno due partite la prima venerdì sera alle 20.30 alla Giuseppe Bondi Arena mentre gara 4 andrà in scena domenica 15 maggio alle ore 18 Ferrara ora avrà due match ball da sfruttare per cercare di superare il turno in caso contrario ci sarà sempre gara 5 a Piacenza intanto però è importante che il club sfrutti l'onda positiva della vittoria in gara 2 chiudiamo qua il nostro tv giornale ora l'appuntamento con una nuova puntata di Campania Mica News parleremo anche della frutta e la verdura di stagione a partire da fragole e asparagi chiudiamo qua il nostro tv giornale grazie di essere stati con noi arrivederci grazie a tutti